Buongiorno signoras e monsignorinas Vi accogno di graziamo Ezio Auditore da Firenze 1.6 Sola Tiberina Tuo nuovo assassino Riquesto Riquesto Vedi. Popravlja nogu Robiam ili contrazio Caterina езжa nosi ove siete? Torno Ezio Cezara i Rodrigo Cezara i Boisio Evo latoio i Rodrigo Io ero in un'altra parte, non ero in un'altra parte, non ero in un'altra parte. In Roma, erode Borgia's influence while restoring our own. And in fact, I want to begin right now. Volpe, bring Claudia and Bartolomeo here. Machiavelli, meet me outside. Take care of her. Okay, that's a good point. Look, the Borgia rob everything from the people to maintain power. What do you intend to do? We will recruit him to our cause. You cannot be serious. To move this war, Machiavelli, we need loyal soldiers. By recruiting enemies of the state, we arm those who have been disarmed by the Borgia. Yeah. Go then. Recruite our first novices. Aha, I think we have these assassins. How do you know? Many of the people. Fight with two citizens of Rome against the Borgia and recruit them for the SS guild. Don't lose them more than a fight for us. Okay. I got a new match. 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 Go luego. Go Christians back. Right now. That's a fantastic thing. Those performers need units to eliminate. There you are as many. Do that too. Yeah. Let's have a new match. That's why we keep playing together? It's these new hopes, please. Cosa. Cosa, mi guardo e io i ti salgo. Ora ti mostrerò. Vi chiedi Niccolò Machiavelli su Isola Tiberina, e dovremmo te faremo uno di noi. I loro li 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 li. po Shut up! ho non ho sai santo? No, ma sua santa! Pasama, dai, comiamo sada ovo call asassins. 我是 te assassin recruiter, ono è reso non ha vezi što je reso, ti Fool! Bori meno unsiliñmente, moorskari su izjednačeni, tako da... Nездans problema! Non c'è un problema. La liberazione Roma è iniziata. Questo è stato fatto bene. Por favor, insegni a me combattere come ti fai. C'è un'assassin? Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla... Mamma, qui ho ha fatto? C'è nulla, c'è nulla. Ti lo ha fatto? Non ci lo ho vè? Tu hai un'hant grotto da un'escritta, locata in cibo, e' usata a cura di assassini. E' un'escritta. E' un'escritta. Oh Nina, tu ti ho detto di non venire da qui? E' un'escritta. E' un'escritta. E' un'escritta. E' un'escritta. E' un'escritta. E' un'escritta. eu' spuvento sa svol'iscritta. E' un'escritta. Non lo so, non lo so, non lo so. Animale! Requiescat in pace. Via! Via! Maledizione! Come! emark outside!! What? Noocar! Sì, perché è stato molto breve, faremo ancora una misi. c'è che c'è che c'è che c'è l'ho pade in vodio jebo tako se budeš plivač prijavi se na plivanje nemmeno i budeš asasin oto plaće ti plec sebi 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 ma lì Bami no why do you cry they're going to take my mamma on the boat ride they say I will go on the next one f**k o loutrad a man from the castle came with guards and arrested us, he scared me they are scary but you look very brave Ti prendi la mia mamma? Mi prendi. Human Cargo, trovare Silvestro Sabanti, uccidio l'ho e libero l'escrizione. Uccidio i tuoi target, usando l'assassinio crew. Quando si prendono la mia madre? Da quella strada. Bene. Hai un posto da andare per ora? Mi i amici? Veni lì. Non pari a parlare con nessuno. Sabatini, ok. Plemić. Može biti plemić koliko voliš. Ok, Silvestro Sabatini. Može biti i predsini gržare. Koji nije dobar, ako iznimiroje malo dete, koja nije ni krivo ni dužno njegovu majku. Hvala, Sato! Sada, Sato! Sada! 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 Non c'è un assassino, non c'è un assassino. C'è un copier, non c'è un attore... Adonate il kille, non c'è l'inc Aspetta mi è rekao che dovrebbe Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.